e le performance della Giorgia Premi, premi, premi Ragazzi ci siete? Siamo pronti per ritornare alla prossima esibizione Andiamo a Isernia, si facciano sentire Eccoli lì! Iaia For the category music B We have the Institute Giovanni XXIII From Isernia Con Il Flauto Magico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti